Ho un teschio d'angelo, l'anatonia del tuo teschio è quella di un angelo, il tuo teschio è geometricamente a forma di angelo, il tuo teschio è salutarmente simmetrico, il tuo teschio è geneticamente a forma di angelo, i risultati sono permanenti e veloci, le affermazioni sono caricate con energie dell'universo, i risultati sono salutari e sicuri.